Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio spiegare come mai ho deciso di sostenere un gioco su Kickstarter e il gioco in questione si chiama Senjutsu, posto che sia la giusta pronuncia, su questo bisogna avere un po' di dubbio visto che non sono giapponofilo, no, giapponofono, penso si possa dire così, comunque il gioco si chiama Senjutsu Battle for Japan ed è un gioco di un gruppo di sviluppatori che si chiama Stone Sword Games, sono inglesi, sono del United Kingdom. Allora che cos'è Senjutsu Battle for Japan, è un gioco diciamo che verrebbe penso classificato da molti critici come un gioco di categoria tipo arena, potrebbe anche essere classificato come skirmish, però in genere skirmish prevede due eserciti che si scontrano l'uno con l'altro, questo è un gioco di combattimento ma i giocatori controllano solamente una persona, un personaggio, un samurai nella fattispecie, come avrete capito dal titolo, questo gioco è ambientato al tempo del Giappone diciamo feudale, al tempo degli stati combattenti, degli warring states e ogni giocatore in persona appunto un samurai. Allora tecnicamente il gioco è da uno a quattro giocatori, implementa una modalità in solitaria con varie opzioni per giocare contro diciamo un'intelligenza artificiale controllata da delle carte. Possono giocare anche più di due giocatori in contemporanea, uno contro l'altro, però credo da quello che ho visto che il gioco sia pensato anzitutto per due giocatori, quindi due samurai che si scontrano in un campo di battaglia. Ecco, uno degli elementi che mi ha attirato molto verso questo gioco è la sua estrema brevità. Pensate che le partite dovrebbero risolversi, almeno a detta degli sviluppatori, in più o meno 20 minuti, quindi questo è un gioco estremamente rapido diciamo, i due giocatori controllano questi due samurai e alla fine controllano ciascuno i propri samurai e alla fine l'ultimo samurai che resiste vivo sul campo di battaglia è il vincitore, il giocatore che lo controlla meglio è il vincitore. Questo è un gioco, tra l'altro è presente anche una modalità cooperativa di cui non so nulla, mi accorgo adesso della sua presenza leggendo qua con voi la pagina Kickstarter, per quello dovete naturalmente indagare per conto vostro. Ecco, questo è un gioco card driven, questo significa che le azioni fatte dal nostro samurai sono determinate da carte. Il gioco grosso modo funziona in questo modo, i giocatori hanno un mazzo di carte, nel gioco ci sono vari samurai e ogni samurai ha delle abilità particolari rappresentate da carte uniche presenti nel suo mazzo, tra l'altro i giocatori possono scegliere se utilizzare il mazzo predefinito per ogni samurai o se anche costruirselo, quindi volendo c'è anche un po' questa componente pre-partita di deck building che possono usare i giocatori più esperti, io nel futuro mi prevedo di giocarlo solo con i mazzi predefiniti per i vari samurai, però chi può dirlo, vedremo, ok? Comunque ogni giocatore ha il suo mazzo, ha una mano di carte che prevede un massimale, quindi pescherà questo numero di carte all'inizio della partita e poi a ogni turno i giocatori contemporaneamente scelgono a ogni round, i giocatori contemporaneamente scelgono una carta da giocare per quel round, la mettono coperta davanti a sé, dopodiché si scoprono contemporaneamente le carte giocate e si procede all'azione utilizzando anche un valore di iniziativa, subito un po' a Gloomhaven da questo punto di vista, quindi in base al valore di iniziativa le carte permettono al nostro personaggio di agire prima o dopo, ok? E le carte permettono al personaggio di avanzare, arretrare, avanzare in una certa direzione, avanzare liberamente, girare, perché le miniature, i samurai sono rappresentati da miniature molto belle, anche sembra nel rendering della pagina Kickstarter, non è detto che poi nel prodotto fisso, sapete che bisogna sempre prendere i Kickstarter con beneficio di inventario, perché mostrano queste miniature, in queste elaborazioni grafiche fantastiche, poi ti arrivano a casa e magari non sono all'altezza delle elaborazioni grafiche che hai visto, quindi ecco, i Kickstarter vanno sempre presi appunto con beneficio di inventario, comunque dicevo, ogni samurai è rappresentato da una miniatura con base esagonale, perché il campo di battaglia è fatto da esagoni e sulla miniatura c'è anche una freccettina che indica qual è il davanti, diciamo, di questa miniatura, perché è molto importante anche l'orientamento della miniatura nello sferrare i colpi. Poi appunto la miniatura ordinata, per così dire, attraverso la carta che sta agendo e potrà fare appunto diverse azioni, diversi colpi, esistono carte offensive, esistono carte difensive, quindi è possibile giocare una carta difensiva che magari però se il nostro avversario ci attacca in un certo modo permette di fare un contrattacco, no? Però se il nostro avversario invece in quel turno non ci attacca, la carta difensiva è sprecata, per dire, no? Questo è un esempio che ho visto. Ci sono anche carte che non sono né offensive né difensive, sono carte cosiddette di meditazione che permettono in un certo senso di prepararsi, no? Per i turni successivi e ogni giocatore ha anche una specie di albero, vediamo che una carta che rappresenta una specie di schema. Vediamo se trovo il nome di questo schema da qualche parte, ok? Ovviamente adesso che mi serve non lo troverò mai. Comunque insomma l'idea è che attraverso questo... ecco si chiama Kamae, non so cosa voglia dire in giapponese, comunque queste carte, o se ha un qualche significato, comunque queste carte fondamentalmente permettono di far scattare delle combo particolari. Sono un po' per tornare col parallelismo a Gloomhaven, sono un po' come i poteri, le energie magiche di Gloomhaven. Se c'è una certa energia magica e la utilizzo, la mia carta avrà un effetto più grande. Ecco c'è lo stesso meccanismo anche qua. Il nostro personaggio ha questo schema davanti, deve tener traccia della sua posizione su questo schema con un anellino colorato, ok? E se gioca una carta e il suo anellino è nella giusta posizione, quella carta sarà più potente, ok? Ci sono alcune carte che lo fanno spostare questo anellino, quindi possiamo appunto anche preparare, diciamo, la posizione dell'anellino per far scattare, per rendere più potente una carta che poi giocheremo più avanti, ok? Alla fine, dopo che si è risolto il round, bisogna pescare una carta dal mazzo. Alla fine del round bisogna controllare che tutti abbiano il giusto numero di carte in mano, cioè il massimale di carte in mano previsto per quel personaggio, perché alcune carte azione fanno anche pescare carte aggiuntive, no? Se ne abbiamo troppe dobbiamo scartare fino al nostro massimo, al nostro massimale per quanto riguarda la mano, e a quel punto si passa al round successivo e si va avanti così finché non rimane un solo, non ne rimane uno solo, va bene? Quindi è un gioco appunto dalle regole estremamente semplici, come vedete, in cui la complessità è data tutta dal contenuto delle carte, no? Dalla modalità in cui sono gestite queste carte, dalla modalità in cui queste carte entrano in combo fra di loro, no? Penso sia molto interessante. Poi devo dirvi la verità, ci sono vari elementi che mi hanno attirato verso questo gioco e che mi hanno spinto a sostenerlo. Intanto appunto la brevità, cioè sono molto contento che questo gioco sia apparentemente molto facile da intavolare, ok? Questo è sempre un elemento, almeno per me, soprattutto, no? Diciamo andando avanti col tempo, questa per me è sempre un elemento, questo per me è sempre un elemento importante, diciamo. Poi il fatto che sia stato molto calibrato apparentemente sui due giocatori, questo è molto importante per me, perché io il 90% delle volte gioco in due, ok? E poi anche che appunto ci sia questo meccanismo card-driven, quindi i giochi di combattimento, uno dei miei giochi preferiti, per non dire il mio preferito in assoluto, è Commands in Colors Ancients, che è un gioco di eserciti invece, di scontri di eserciti, no? Però la logica è un po' la stessa, cioè a ogni turno gioco una carta e quella carta mi permette di muovere o far attaccare i miei cubetti, in quel caso, perché non sono miniature, ma cubetti di legno, no? Diciamo che, ecco, la meccanica mi interessa molto, la durata mi ha molto attirato, anche la grafica, devo dirvi la verità, mi ha molto attirato, ok? Al di là dell'aspetto delle miniature, proprio la direzione artistica generale, trovo che la scatola sia veramente bella, una delle più belle che io abbia mai visto, ecco, ci sono anche degli elementi che mi lasciano un po' perplesso, il primo fra tutti è il fatto che la campagna sta avendo un grande successo, ma è basata sul meccanismo degli stretch goal, no? Continuano a sbroccarsi stretch goal su stretch goal, quindi ho il sospetto per non dire la certezza che alla fine della fiera questo gioco sarà ipertrofico, cioè sarà overproduced, ok? Cioè sarà, avrà sempre questa durata compatta, perché questa è una caratteristica del design, però diciamo ti arriveranno a casa mille personaggi, mille variabili, età e otto milioni di planche di combattimento che sono differenti probabilmente solo per la grafica, oggettini da mettere sul campo di battaglia, l'albero di ciliegio, il pozzo, ecco, tutte queste robe qui sembrano, diciamo, delle, delle, no? Così, delle, delle sciccherie un po' inutili, diciamo, dal punto di vista del gameplay, che rischiano di rendere il gioco forse troppo grande proprio in termini di spazio occupato sulla libreria, no? Vista anche la durata contenuta che il gioco deve avere. Quindi ecco, forse questo è un elemento che mi lascia un po' perplesso. Dovete fare attenzione anche al costo. Beh, in realtà, se prendete la versione base, allora, sono state sbloccate anche mille espansioni che fondamentalmente introducono nuovi personaggi, no? Credo ci siano quattro samurai giocabili nella scatola base e poi ce ne sono tanti in più che vengono aggiunte da queste, da queste espansioni che hanno ovviamente le relative miniature, ok? Però ecco, recentemente è stata aggiunta un'opzione all-in. Vediamo se la, se la trovo, tra l'altro. Allora, l'opzione all-in. Io ho fatto il mio, ho sostenuto il progetto nei primi giorni, quindi dovrò cambiare il mio pledge, perché all'inizio non c'era l'opzione all-in. Dovevi mettere la base e poi dovevi aggiungere, se volevi, degli extra. Invece adesso finalmente hanno fatto l'opzione all-in, che dovrebbe avere tutto, insomma. Quindi uno prende quello e non ci pensa più. E costa 145 sterline o 199 dollari, va bene? Quindi ecco, dovete fare un po'. Ovviamente a questo vanno aggiunte le spese di spedizione. Non so se ci saranno le tasse. Ecco, questa è una roba che magari guardiamo adesso. Se no c'è l'all-in gameplay, che è 120 sterline o 165 dollari, ok? Quindi ha tutto, ecco, se vi interessa solo i materiali gameplay e non mi interessano queste sciccherie di cui stavo parlando, forse dovete andare su quello. E però se volete semplicemente la scatola base, la scatola base è 49 sterline o 69 dollari. Quindi vedete, potete anche puntare su quella, è un costo abbastanza contenuto, no? Oh, aspetta, no, quello cos'è? Ah, è la Deluxe quella. Ah, perché c'è anche la non-Deluxe. Quale sarà la differenza con la Deluxe? Forse non ha miniature, ma stand-D. Non ne ho la minima idea. Ah no, forse l'edizione Deluxe ha il Neoprene Mats, ha i Metal Ring per la tabella Kamae, quindi alla fine c'è pochissima differenza con la Core Pledge. Potete andare direttamente nella Core Pledge, che è 35 sterline o 49 dollari, se volete appunto, se volete appunto limitare le vostre spese. Vediamo se abbiamo informazioni riguardanti le spese di spedizione, invece, vediamo un po', andiamo in fondo alla campagna, beh, trovate naturalmente nella pagina della campagna e anche tanti video di gameplay, di youtuber ricchi e famosi, che hanno ricevuto una copia in preventiva, per così dire, in anteprima del gioco in preventiva. Va beh, non importa. Vediamo Pledge Manager, ecco ci sarà un Pledge Manager su Baker Kit, oh, eccole qua le spese di spedizione. Dunque, noi siamo in European Union, almeno per il momento, speriamo di rimanerci, e costa 12 dollari la spedizione all'interno della European Union, quindi al prezzo dovete aggiungere i 12 dollari. Per quanto riguarda le tasse, no, non ci saranno. Beh, 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 bene. Attenzione, però, forse questo costo si riferisce alla, alla edizione base, eh. Non sono convinto che per la All-In costi sempre 12 dollari la spedizione, però non ci saranno tasse. Ecco, questo è un punto sempre, sempre a favore, no? Quindi, ottimo. E, tra l'altro, sappiate, piccola curiosità, che questo gioco è il primo di una collana, va bene? Quindi, il prossimo si chiamerà Daimyo, e l'ultimo si chiamerà Yugen. Boh, sto leggendo semplicemente i titoli così come sono scritti, eh. Quindi, avranno, avranno, saranno molto diversi, perché Daimo, il prossimo, sarà un gioco di eserciti, e l'ultimo, Yugen, sarà un dungeon crawler cooperativo, ok? Quindi, probabilmente, quello proprio, non lo guarderò neanche di striscio, o forse, o forse magari lo comprerò solo per avere, aspettate che poi scattano in noi completisti questi meccanismi. Comunque, insomma, stiamo parlando di progetti che arriveranno nei prossimi, nei prossimi anni. Invece, un'altra, o l'ultima cosa che voglio aggiungere, è che è già stata annunciata una partnership con una casa di pubblicazione italiana, con un publisher italiano, quindi il gioco avrà la versione italiana, sarà Pendragon, il responsabile della localizzazione, e potete tranquillamente fare il Kickstarter, cioè non dovete aspettare l'uscita, diciamo, del gioco nei negozi, anche perché è pieno di esclusive sul Kickstarter, quindi se volete il gioco vi consiglio di fare il Kickstarter, nel pledge manager, è scritto nella campagna, potrete selezionare la lingua. Quindi, se fate il Kickstarter, poi nel pledge manager selezionate l'italiano, e vi arriva il gioco di Pendragon, con tutte le sciccherie aggiuntive, poi bisogna vedere se Pendragon traduce tutto, magari non traduce, traduce solo la core box, magari, questo dipende ovviamente dalle scelte aziendali che faranno. Va bene, signori, quindi direi che vi ho detto tutto, più o meno, vi ho più o meno spiegato perché ho deciso di sostenere questo gioco, fatemi sapere se questo gioco interessa anche a voi, se avete deciso di sostenerlo, e mi raccomando, se vi piacciono i nostri video e non l'avete ancora fatto, beh, iscrivetevi al canale, cosa aspettate? E cliccate anche sulla campanella, così da non perdere le notifiche. Mosè dalla Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video.